Buongiorno signori, oggi vi faccio vedere il nuovo battifreccia che ho fatto, tutto fatto di stracci, coperte, pantaloni, magliette, camice, lenzuola, giacche, cappotti, quindi c'è un po' misto lana e cotone, anche se vi consiglio comunque di usare capi in cotone, è meglio, niente, due misure sono circa 60x60, due asti di legno, 4 barre filettate che vanno a chiudere, non sono stretta a morte, a dita proprio, una cinghia, questa è stretta bene, una cinghia per pacchi, in modo da variare la densità stessa del bersaglio, a seconda anche delle distanze, da come si vuol far penetrare la freccia dentro, di quanto si vuol far penetrare la freccia dentro, dentro il bersaglio, questo è un box, la balestra è lì, 185 libri di palestra, la distanza è veramente minima, in quanto sono circa 3 metri, vi faccio vedere la prova, è veramente un bersaglio al chifondro che azi, io dico, e allora, vedete come frega bene, le alette sono salve, poi vi farò vedere l'estrazione, bastano veramente due dita. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ok. Penetrazione. Credetemi nessuno sforzo. Penetrazione così. 10-15 cm dentro. Non si impazzisce più a tirarle via. Questo è quanto. Alla prossima. Tutti consigli. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.